Cosa sono i numeri decimali? I numeri decimali sono i numeri formati da una parte intera e da una parte decimale, proprio come i prezzi dei supermercati. 0,67, 1,49, 2,69, 3,97. Il punto o virgola decimale separa la parte intera, questa blu, dalla parte decimale, questa rossa. La parte intera è formata da tutti i numeri naturali maggiori di 0 e sta sempre alla sinistra della virgola o del punto decimale. Sono tutti quei numeri formati da unità, decine, centinaia, unità di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, eccetera. Ad esempio, 1, oppure 32, oppure ancora 564 e molti altri ancora. La parte decimale, invece, è formata da tutti i numeri minori di 1 e sta sempre alla destra della virgola o del punto decimale. Essa è formata da decimi, centesimi, millesimi. De l'istretto di migliaia di luglio. La parte docente che faccio rまciare, centinaia e per il punto decimale,